Ecco, lo SCEC è un falso problema perché lo SCEC, essendo una percentuale di prezzo che circola insieme agli euro, non può essere mai messo in circolazione in sovrabbondanza. Facciamo un esempio, se lo SCEC viene accettato mediamente al 20%, vorrà dire che lo stesso esercente non avrà nessuna intenzione di volerne incassare di più, anche perché poi, dovendolo spendere insieme all'euro, dovrebbe avere più euro per poter spendere lo SCEC. Allora, possiamo l'allegname per dire qual è la differenza? È che siccome con lo SCEC o con monete di tipo analogo non si può comprare completamente una cosa, cioè io non posso andare in un negozio e comprare usando solo SCEC qualcosa, devo usarlo come percentuale di un pagamento che per il resto è normalmente in euro. Questo fatto casi che più di tanto non si possa creare inflazione su questi oggetti perché è uno sconto. Sì, è stata corretta la sintesi. È corretta la sua interpretazione. Altra cosa rapidamente, l'allegname, qualcuno ha anche ipotizzato che siano illegali queste forme di monete complementari, perché la moneta è naturalmente una cosa molto seria, sappiamo tutti quanti come funziona, qual è la complessità dei sistemi monetari. C'è questo dubbio o no? No, questo dubbio è stato completamente fugato dall'Agenzia delle Entrate nel luglio del 2010. Noi abbiamo fatto un interpello proprio perché volevamo essere sicuri delle nostre interpretazioni giuridiche fiscali e l'Agenzia delle Entrate ci ha dato parere positivo. Lo SCEC è inquadrato fiscalmente come uno sconto e quindi non rientra nella base imponibile. Allora, abbiamo detto che lo SCEC è inquadrato come uno sconto, come un buono sconto, come altre forme di monete complementari. Poi l'una, prima citavamo il caso invece di quelle che sono più assimilabili a un baratto. Sono forme un po' diverse, tipo il Sardex per l'appunto. In sostanza sono delle valute di conto per delle camere di compensazione in cui offro una cosa e ne trovo un'altra, un po' anche come il Dropis che citavamo prima. Questo è stato considerato uno strumento anticrisi perché in un momento in cui le imprese i soldi non ce li hanno, le banche non glieli danno, può essere un modo alternativo per riuscire a scambiarsi cose quando l'attività può andare avanti. Il fatto che il VIR sia nato dopo la crisi del 29 ci aiuta a capire che può esserci fortuna per questo esprimento. Tanto sono monete che nascono in tempo di crisi. Dopo la crisi del 29 sappiamo che è in crisi il sistema bancario. Tu prima dicevi che la moneta è molto complessa e per fortuna è garantita dalle banche. Ma secondo voi in tempo di crisi i cittadini si fidano più delle banche o del commerciante che hanno sotto casa? Il problema non è se i cittadini si fidano delle banche e poi se le banche si fidano dei cittadini per dargli i soldi. No, ma infatti però voglio dire che queste monete in questo momento hanno successo. Pensate a quello che accadde in Islanda quando l'intero sistema bancario è andato in default nel 2009 e c'è stata una grande crisi. Allora in quel momento la fiducia dei cittadini verso le banche non è tanta. La fiducia dei cittadini in altri cittadini che abitano nel proprio quartiere, che producono dei beni, che vendono dei beni, che vendono i servizi nel proprio quartiere è molto più alta. Ecco perché nei momenti di crisi queste monete hanno più successo evidentemente.